E basta, allora biglieti la linea se vuoi fare il termine, basta, falle tu. Fiorella Piero Bon, ti vorrei fare una domanda. Fra tutte le cose che tu fai a Canale 5, qual è la cosa più bella, che ti dà più soddisfazione? Beh, tutte le cose che io faccio mi danno soddisfazione perché c'è un contatto diretto con il pubblico, anche se non abbiamo la diretta, comunque abbiamo un contatto diretto con voi, perché ogni volta che vi comunichiamo un'informazione o vi annunciamo un film o qualsiasi altra cosa, insomma lo facciamo con il cuore, siamo sicuri che comunque voi siete lì e ci ascoltate in ogni momento. È molto umana, molto carina.